Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare tecnica con una canzone. La canzone è My Cigarette dei Red Chili Peppers. Come al solito, Flea ci offre grandi spunti di tecnica perché lui comunque, secondo me, è molto dentro la musica e comunque molto tecnico, sempre a servizio della musica comunque. Allora, qui andiamo a fare uno studio particolare perché solitamente noi le ottave, cioè ottava bassa, nota bassa, si bemolle e si bemolle acuto, andiamo a prenderle appunto dal basso verso l'alto. Lui invece cosa va a fare? Va a prendermela in alto e mette quella sotto. Questo tecnicamente complica abbastanza le cose. Innanzitutto, come diteggiatura, ti consiglio di utilizzare un dito per corda. Quindi io come note ho Si bemolle, La e Sol. Prima quindi quella acuta, Si bemolle al tasto 8 dell'accordo di Re, con il medio. Invece con l'indice vado a prendere Si bemolle grave al tasto 6 dell'accordo di Mi. Sposto di un tasto tutto, sposto di due tasti tutto. In realtà io questo Sol vado a prenderlo con l'indice perché poi ritmicamente ho più tempo per spostarmi. Così. Perché qua parte sul quarto quarto, quindi io devo cadere sul Sol, questo qua, sull'uno. Uno, due, tre, quattro, uno. Lo vedi comunque nella trascrizione che dovresti trovarti qui in alto, qui in alto. Quindi io vado a prendere Si bemolle alto, basso, La alto, La basso, Sol con l'indice e poi sposto a prendere il Sol grave. Due volte. Poi vado a fare una frase di raccordo per arrivare sulla nota La, tasto 7 corda di Re. Anche questa è molto bella. Parto con l'uno sul Sol. Sol, La, Si bemolle, Do, Si bemolle, La, La. Se hai una buona tecnica del quattro dita e quattro tasti dovresti riuscire abbastanza facilmente e soprattutto senza spostare la mano. Poi andiamo ad appoggiarci ancora un La basso, quindi anche qua più riesci a tenere la mano raccolta e giù e più probabilmente riuscirei a essere sia preciso che veloce. Dopo abbiamo un altro raccordo. Questa volta per andare al Do. Noi abbiamo fatto il La basso, quindi anche qua se ho la mano raccolta come ti dicevo prima, il dito quattro non dovrebbe faticare ad andare al Si bemolle in corda diretta. tasto 8 e fare Si bemolle, La, Sol, Mi bemolle con il 2, quindi dita, quattro, tre, uno, due, e poi cado sul Do. E poi andiamo a mettere ancora un Re come vedi da partitura. E poi ripartiamo. Tutta la canzone è così, lui la suona molto rilassata come la voce che c'è sotto, anche il basso è molto rilassato, però questi soprattutto i sedicesimi che scendono sono veloci e antipatici da fare. Quindi, cosa ti consiglio di fare? Vai a prendere con Moises, te la carichi, anziché 89 la porti più giù di metronomo e poi piano piano la riporterai su, tipo 75, proviamo a vedere. Due, tre... Qua è molto più giustibile. Molto molto bella, a me piace, piace veramente un sacco questa canzone. E soprattutto è una cosa un pochettino al di fuori dei soliti schemi che si studiano. Bene, spero di averti dato uno spunto interessante. Dai un'occhiata ai miei lavori sul mio sito se ti interessano, se sei appassionato di basso elettrico. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto, grazie. Ciao, a presto. Ciao. 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 Ciao.